Abbiamo stato spiegato il film durante il corso di un anno, quindi non c'era il lavoro per preparare a spiegare. Ma c'era un senso che volevi essere consistente e volevi spiegare bene ogni notte. Abbiamo messo il nostro pieno per fare questo film, quindi c'era il rischio. Martins Scorsese dice che Stop Making Sense è il migliore concerto di film che mai ha fatto. E cosa pensi di questo? Non è un film di concerto, esatto, c'è qualcosa di parlare e di conversazione. È un film fantastico, e si capisce una speciale notte in Filmore, che la gente sapeva che la band era venire a partire, e, ovviamente, ha questi fantastici artisti artisti. Quindi, è certamente una delle più... è certamente, appare con Stop Making Sense è una delle più succesi musicali, ma non è precisamente un film di concerto. Does anybody have any questions?